Presentato oggi in municipio ad Arco il Carnevale, organizzato dal gruppo Costruttori Associati. Sfilate di carri, spazio per i bambini con gonfiabili, musica ed intrattenimento, insomma i due prossimi fine settimana, i giorni 18, 19, 25 e 26, saranno all'insegna del divertimento. Le sfilate non saranno più sul Viale delle Palme, davanti al Casinò, ma si sposteranno sul collaudato percorso estivo delle piazze del centro. Ospite delle due domeniche pomeriggio sarà Lucio Gardin. Sempre per iniziativa del gruppo Costruttori, sono esposte nelle piazze cittadine, da qualche giorno, le gigantografie delle foto d'epoca, mentre in Sala Segantini, ad iniziare da sabato prossimo, saranno esposte le bellissime maschere in legno dei Carnevali alpini, provenienti dalla collezione privata di Gianni Nicolini. Il Carnevale ad Arco sul Garda, ma il Carnevale sarà ad Arco comunque? Penso che ormai sia rimasto uno degli ultimi a non aver compreso la satira un po' che è stata fatta sul manifesto, insomma. Chiaramente tornando a quello che era la tradizione del Carnevale negli anni 50, quando l'Arco d'Argento veniva vinto o dal Comune di Arco o dal Comune di Riva, se uno delle rappresentative riusciva a vincere tre volte consecutive. Quindi abbiamo riproposto una goliardata in questa maniera qua, in maniera da riproporre un po' la storia, ecco tutto lì. Torna il Carnevale, tornano i carri, grande festa per i bambini. Sì, nei due sabati, nel nuovo percorso che abbiamo già sperimentato nelle due edizioni dell'estate, intorno nelle tre piazze, intorno alla chiesa, quindi sabato pomeriggio esclusivamente a livello giovane e le due domeniche invece la sfilata dei carri allegorici con dei gruppi all'interno e musica dal vivo nelle tre piazze. E un ospite di eccezione. Sì, quest'anno non facciamo l'Arco Rida, abbiamo pensato di spostare un po' quello che era la satira al cabaret anche a livello locale e con l'Arco Rida si riusciva a portare 300-400 persone, portando in piazza questo spettacolo qua diamo maggior lustro, quindi abbiamo nei due pomeriggi delle due domeniche, abbiamo Lucio Gardin che farà uno spettacolo sul piazzale Segantini nel pomeriggio. Però al posto dell'Arco Rida avevate in mente un'altra iniziativa? Sì, al posto dell'Arco Rida volevamo fare un'iniziativa nuova, volevamo fare il salto del ponte nella Sarca, però abbiamo andato a misurare l'acqua un po' bassina, probabilmente lo riproporeremo un po' più avanti, aspettiamo un attimo che l'acqua salga un po', però è un'iniziativa che non abbiamo trascurato, probabilmente dovremmo leggermente modificare e studiarle a meglio, ma la riproporremo, proprio il salto, visto che va di moda il salto della Befana, della Pifania, della Merla e tutte queste cose qua, insomma, anche noi dobbiamo fare, non possiamo restare il Drio rispetto agli altri, insomma. E' confermato il calendario per quello che riguarda l'estate? Sì, riguarda quel che riguarda l'estate, il calendario è l'ultimo weekend di luglio e il primo weekend di agosto, probabilmente con le due sfilate nei due sabati e riproporeremo senz'altro il giorno prima, i due venerdì, stesso tipo di manifestazione come quella fatta l'anno scorso con i gruppi itineranti in giro per la città. Ecco, abbiamo solo da definire alcuni dettagli, però anche questo è a posto, come il primo settembre quando riproporremo Vico Run, la Corsa Amata Colorata.